buon pomeriggio e benvenuto in questo nuovissimo video relativo al mondo amazon seller come sempre prima di tuffarmi i video di oggi voglio davvero ringraziarti di cuore della tua presenza del tuo tempo e di tutto questo percorso che stiamo facendo insieme ti ricordo che hai a disposizione il gruppo facebook gratuito che continua a crescere ogni giorno di più e all'interno potrai essere aggiornato sul mondo amazon seller confrontarti con altri appunto seller o persone comunque interessate a questo mondo è tutto gratuito all'interno ci sono anche io quindi assolutamente ti consiglio di entrarci perché c'è tantissimo valore delle live speciali degli sconti insomma tutto quello che è inerente a questo mondo troverai il link in descrizione ti ricordo che in questo canale youtube trovi anche tutti gli argomenti divisi per playlist quindi mi raccomando dagli assolutamente un'occhiata quindi se ti sei perso qualcosa se non sai dove andare a trovare una cosa specifica per la pagina prodotto un corso intero quello che è semplicemente ci vai dentro anche l'intelligenza artificiale e te li vai a rivedere ti ricordo che è anche attivo il anche attiva la community leaf che è con una che è a pagamento con un investimento di 50 euro al mese ti permette di interagire con altri seller esperti account manager accedere quindi a live chat video live che vengono registrate direttamente da me e poi insomma è una specie di elite che ti permette di essere sempre aggiornato su questo mondo ad un livello più avanzato chiaramente rispetto al gruppo facebook però ecco dai un'occhiata avrai anche eventualmente 7 giorni di prova ti ricordo che puoi iscriverti al canale youtube e lasciare un like comunque per restare aggiornato su tutto quello che succede in questo ecosistema oggi di cosa voglio parlarti faccio questo video soprattutto per annunciare in un certo senso la partnership con zone wizard che è un software di contabilità che ho appunto annunciato anche all'interno del gruppo facebook è un software che ti permette adesso andiamo a vederlo più nel dettaglio praticamente di tenere la contabilità in modo più analitico in modo più chiaro di quello che accade all'interno del tuo account amazon sia a livello fiscale sia a livello contabile anche a livello quindi economico finanziario il discorso è che secondo me è un software veramente fondamentale ho aspettato a fare questa partnership ma come si dice meglio tardi che mai e mi hanno fornito appunto una demo per poterti farti vedere in modo completo tutti i vari strumenti e anche la possibilità di fornirti uno sconto del 15% su questo software che adesso andiamo a vedere insieme è veramente di estremo valore e a livello di prezzo uno dice si andrea ma quanto mi costerà ecco già ti faccio vedere comunque siamo sui 15 euro al mese o 10 euro al mese poi dipende anche dal numero di ordini che fai ma comunque sia quello che puoi andare a fare come vedi aumenta il prezzo in base agli ordini al mese comunque sia puoi tenere con il 15% andando a cliccare sul link che troverai nel primo commento che è questo qua e inserendo poi in fase di pagamento questo codice qua quindi ti metterò tutto qua nel primo commento comunque potrebbe avere un 15% di sconto ma andiamo a vedere nella pratica che cos'è questo software e come funziona ma andiamo a vedere eccolo qua questa si divide come vedi per dashboard fisco profitto analitiche e come vedi dipende anche dai piani quelle analitiche ce l'hai solamente nel piano plus secondo me già il piano pro è molto completo il piano plus è anche per accedere a dei grafici un qualcosa di più se uno vuole veramente andare un po' più nel dettaglio e adesso andiamo a vedere insieme perché in questo in questa demo posso farti vedere tutti gli strumenti in modo completo e chiaro quindi assolutamente mi raccomando stai sul pezzo e stay tuned per gli aggiornamenti anche di questo software con il quale appunto farò poi magari delle live insieme dei contenuti ti porteremo su come funziona insomma andremo a vedere sempre più nel dettaglio anche questo software perché è veramente di estrema rilevanza e secondo me è un tassello importante quando vai a vendere su amazon uno di quegli investimenti un po' come elium 10 o come fact amazon insomma veramente uno di quei software fondamentali per avere tutto in modo automatico semplice e che ti permette di ottenere risultati anche perché grazie a questo software riesce a vedere chiaramente poi i tuoi margini netti adesso andiamo a vedere insieme ovviamente come si fa i tuoi margini netti allo stesso tempo riesce a capire se stai vendendo a profitto oppure no cosa fondamentale che prima magari facevi con tutti i file excel tabelle eccetera in questo modo è tutto riassunto qui e puoi andare a connettere questo software direttamente al tuo account amazon nella sezione integrazioni oppure qua non si vede ma c'è anche la sezione per collegare il commercialista e farlo accedere a tutto l'aspetto fiscale che adesso andiamo a vedere insieme e si presenta così quindi avrai una dashboard per il fisco questa dashboard come ti fai come vedi ti divide per fatture e corrispettivi cosa molto molto utile per il tuo commercialista ho già fatto un video su cosa devi girare al commercialista in questo modo riesci veramente a fargli vedere tutto quindi fatture corrispettivi in modo chiaro ti fa anche vedere le aliquote esistenti ricavi per ogni mercato anche se ci sono io davanti comunque sia l'iva le dichiarazioni iva se sei scritto all'osso oppure no poi possiamo andare nel dettaglio a vedere le fatture qui direttamente qua dentro riesci a vedere tutte le fatture puoi aggiungerne anche manualmente ti fa vedere tutto il lordo l'iva veramente i corrispettivi anche qui c'è tutti i corrispettivi escluse le fatture per data riesci a vederlo e per mercato addirittura si può anche integrare ebay un altro mercato se non vende anche lì insomma come vedi è tutto molto molto dettagliato con in fondo anche un riepilogo puoi vedere tutti i reportiva per paese quindi andare a capire quanto è l'iva che devi versare magari in ogni paese questa è una cosa molto molto importante e è veramente stra comple queste dashboard sono stra complete cose che magari puoi trovare anche su amazon ma devi poi mettere insieme perché non sono così semplici anche da capire una cosa che dico da sempre investire nel software non è una cosa solo a livello di dati che puoi reperire ma è la semplicità con cui ti vengono mostrati ed il tempo che ti fanno risparmiare ricordati questa cosa qua la cosa la valuta più importante è il tempo non i soldi soprattutto in un business se non hai più tempo non riesci a fare le cose correttamente non riesci a focalizzarti sulla tua visione perché sei dietro a queste cose tecniche di contabilità fiscali che onestamente dovresti delegare tutto al tuo commercialista e dire senti pensaci te però te devi starci devi in un certo senso avere questi strumenti che ti permettano di semplificarti il lavoro e capire subito a colpo d'occhio ok quanto sto fatturando lì quanto è il mio margine netto e quindi ti faccio vedere esattamente tutta questa roba qui ci sono i report oss quindi per ogni paese i vari trasferimenti tra mercati le aliquote che ovviamente questo qua è l'aspetto fiscale quindi questo è il tool fisco che ripeto a cui ripeto è accesso già col piano pro che va benissimo secondo me e anche questi due tool secondo me sono fondamentali quindi almeno il piano pro è fondamentale in un certo senso qua puoi inserire prodotti con aliquota ridotta quindi puoi impostare come sempre il paese puoi andare a impostare puoi aggiungere nuovi prodotti è tutto modificabile chiaramente ti faccio vedere le cose che ci sono le soglie di protezione qua ti fa vedere come sai che la soglia per poi iscriverti all'OSS di 10.000 euro in Europa qua ti fa vedere la soglia ti dice quanto effettivamente stai facendo te in tutta Europa e questa è una cosa molto molto interessante e quindi riesci a capire ok ho sforato qui puoi mettere anche qui la data e capire esattamente come sei impostato no quindi se sei iscritto all'OSS ti devi aprire la partita IVA insomma tutto l'aspetto fiscale proprio sott'occhio qui puoi fare dei upload massivi insomma fatto sta che comunque ti guida anche lui nel che cosa servono a che cosa sono insomma puoi caricare file poi nelle impostazioni puoi andare anche a scegliere alcune puoi andare anche a impostare alcuni settaggi che potrebbero esserti utili come vedi è molto molto completo poi ovviamente va analizzato più nel dettaglio in base anche alla tua situazione perché queste cose sono tutte variabili però comunque sia in tutto questo avrai anche un loro supporto eventualmente comunque sia poi qualsiasi dubbio o domanda scrivilo nei commenti che poi lo andiamo a vedere insieme in video più specifici andiamo veramente a lavorarci insieme poi c'è il tool profitto che secondo me è veramente una roba incredibile adesso andiamo a vedere insieme ti fa vedere subito a colpo d'occhio tutto questo una volta che hai anche collegato il tuo account Amazon quindi farà tutto molto anche in modo automatico una volta che li connetti te vai a dare ovviamente un'occhiata ma ti fa vedere poi chiaramente i ricavi i costi e qual è il tuo profitto che è questo verde te lo metti per grafici in modo diviso in modo molto chiaro come ti dicevo prima quindi ti fa risparmiare un botto di tempo il totale degli ordini puoi vedere i costi quindi quali sono i costi più grandi che stai sostenendo puoi veramente vederlo per ogni mercato come sta andando è veramente un qualcosa di qui vedi puoi addirittura andare nel dettaglio per costo ti fa vedere veramente tutto una roba veramente molto molto bella hai tutto qui hai veramente tutto ti fa vedere il tuo margine netto a colpo d'occhio è veramente un qualcosa di molto molto bello è tutto modificabile chiaramente qui puoi impostare la data e poi qui come prima dalla dashboard puoi andare a finire nella tabella del profitto direttamente quindi in modo più chiaro andare a vedere ecco si sta baggando tutto ecco non so si è baggato tutto puoi andare a vedere chiaramente la tabella di profitto per ogni prodotto puoi andare a vedere quanto è il tuo margine netto su un prodotto puoi andare a vedere i prodotti puoi andarla a inserire poi se ci vai dentro chiaramente ti permette di fare cosa? di andare a modificare i costi sul prodotto quindi il costo di produzione il costo di spedizione i dazzi e tutti gli altri costi che vuoi andare a inserire in modo tale che ti calcola ancora meglio i tuoi margini netti questo è molto importante puoi veramente andare a vedere gli ordini tutti gli ordini che ricevi tutti i divisi le recensioni e i feedback puoi andare anche a impostare ogni quanto far partire le richieste di recensioni cosa che si può fare anche con sellerize ma in questo modo riesci ad avere tutto monitorato quante sono in attesa di essere ricevute quelle inviate e tutto il resto le spese esterne che puoi andare a inserire il bilancio completo che veramente ti permette di vedere subito come sta andando ogni mese il tuo mercato su Amazon quindi diviso per ordini commissioni in cui puoi andare nel dettaglio i resi con gli strumenti veramente utilissimi le ppc le campagne che vengono ovviamente integrate ad Amazon e quindi riesci a monitorare tutto questo l'iva i rimborsi insomma riesci a monitorare tutto e capire esattamente quanto è il tuo marginetto per mese anno puoi veramente vedere tutto e anche qui poi le varie impostazioni che puoi andare a settare in base a come preferisci chiaramente altra cosa molto molto importante nella sezione analitica e per quanto riguarda invece il piano plus ti puoi andare nella sezione analitica e vedere che cosa una dashboard completa a livello più analitico di dove avvengono le tue vendite ad esempio in Italia se clicchi sull'Italia guarda la figata riesci ad andare nel dettaglio e capire in quale regione avvengono più ordini una cosa simile faceva vedere anche i golai una cosa del genere comunque sia la cosa interessante è per città ti vengono divisi proprio gli ordini e ho cliccato su Roma mi fa vedere tutti gli ordini su Roma questa è una cosa molto molto interessante no? ecco ho perso le analitiche qui intorno alla dashboard qui c'è tutto per diviso ripeto per analitiche il trend settimanale la stagionalità cioè veramente di tutto e di più l'inventario riesce a vedere il valore dello stock le vendite questo qua è una cosa analitica ovviamente plus però è molto interessante anche per quanto riguarda i rimborsi riesce a vedere chiaramente se hai delle merci che magari possono essere rimborsate oppure no riesce a vedere il dettaglio dei clienti anche qui ogni cliente quanti ordini ha fatto se ha fatto dei resi come puoi vedere la salute dell'account che ti permette di vedere in ogni mercato se ci sono delle problematiche quindi andare a risolverle in anticipo perché è tutto sott'occhio non devi aspettare che Amazon devi andare in ogni singolo mercato a vedere se stai facendo le cose correttamente ma ti viene tutto direttamente segnalato da qua dentro quindi vedere se le policy delle inserzioni sono a posto il servizio clienti le consegne puntuali tutta questa roba qui è veramente incredibile nelle analitiche puoi andare anche qui a settare qualcosina in più ma come vedi è tutto molto molto intuitivo ripeto hai la dashboard delle analitiche questo per la versione plus hai la dashboard per il profitto cosa estremamente utile quando vai a vendere su Amazon per capire effettivamente quanto è il tuo margine netto e questo è importantissimo per poi andare a calcolare anche quanto investire in campagne quanto investire il mese dopo eccetera eccetera ed hai anche il tool fisco completo quindi troverai tutto diviso per fatture corrispettivi IVA tutto in in tre click veramente tre click e hai tutto sott'occhio quindi meglio di così secondo me non puoi fare ti ricordo qua nel primo commento troverai il link per prenderlo con il 15% di sconto che alla fine è questo link qua che ho pubblicato anche nel gruppo facebook e per il resto ripeto farò magari più dei video più specifici poi per i vari tool ma comunque sia questo è quanto io vi ringrazio veramente Zone Wizard per questa partnership di valore la possibilità di offrirti anche uno sconto e allo stesso tempo metterti tutto veramente a disposizione io ti ringrazio come sempre della tua presenza e noi ci vediamo in un prossimo video relativo al mondo Amazon Seller un abbraccio di cuore un abbraccio di cuore